... ... Quindi questo... Come si chiama? Paolo il gabbiano Paolo il gabbiano viene tutti i giorni qui al Vaticano e cosa mangia? Alle tre mangia solo viussel di pollo se gli abbiamo provato a dare quello di maiale non se lo mangia solo viussel di pollo e caldo Lo posso mettere su Youtube? Assolutamente si c'è E quindi aspetta ora lo chiami vediamo se si chiama aspetta che lo zoom chiamalo un po' Paolo 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 Aspetta poi gli do proprio il pollo Aspetta poi gli ho usato Si aspetta E allora viene tutti i giorni qui alle tre Tutti i giorni qui alle tre Da anni Da anni Prende il suo viussel di pollo caldo guai se è freddo e non quello di maiale Abbiamo provato a dargli quello di maiale e l'ha lasciato per terra Ci vogliamo provare a farlo mangiare Adesso gli vogliamo uno di pollo Lo vado a scaldare Arrivo A caldo lo vuole? Si si è caldo Se non è caldo lo mando Aspetta Tu come ti chiami? Corrado Corrado sta portando il burso e il caldo a Paolo il Gabbiano Paolo Già ti ha visto Paolo Vediamo quanto si avvicina Vediamo quanto si avvicina Questa è la motivazione per cui sta qui Questo è il motivo per cui il Gabbiano è qui Ogni giorno A tre o'clock in the afternoon In front of St Peter's Square Ma è freddo It's very cold today Pure al volo lo prende? Si Dalle mani niente Prova un po' a metterla sul palmo No, così Potrebbe pizzicare Ah, potrebbe pizzicare Ammazza i piccioni Ammazza, fa freddo Paolo il Gabbiano Sta qui A mangiare Alla caffetteria Di fronte All'entrata di Vatican City Top in Modo il Gabbiano Modo il Gabbiano Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.